Un'offerta di turismo accessibile promossa da persone con disabilità che diventano gestori di bed and breakfast realizzati nella loro casa è lo scopo del progetto B&B Like Your Home, presentato questa mattina con gli assessori ai giovani al turismo del comune che nasce in campagna nelle province di Napoli e Salerno. A promuoverlo è la Onlus Fondazione Casamica per offrire ai ragazzi speciali e alle loro famiglie una possibilità di occupazione. L'idea è venuta quando immaginando che una persona con disabilità fisica, psichica e sensoriale abbia attrezzato la propria casa per i propri problemi potesse mettere a disposizione la propria casa per fare reddito per cui la filiera di bed and breakfast sull'asse Salerno-Napoli perché ovviamente sono province nelle quali c'è tantissimo da vedere, da visitare, luoghi turistici importanti. Ci è sembrata un'idea positiva anche perché ci sono 900.000 persone che fanno richiesta di inserirsi nel turismo accessibile. Protagonisti del progetto sono persone con disabilità o con bisogni speciali disponibili ad avviare un'attività di bed and breakfast per offrire ospitalità ai turisti, in particolar modo a coloro che necessitano di strutture adeguate alle loro esigenze. C'è un regolamento interno che prevede anche che le persone ospitate passino anche delle ore in compagnia del proprietario anche attraverso la prima colazione e poi di qui parte anche il percorso e un itinerario turistico accessibile. Per partecipare bisogna avere un'età compresa tra i 14 e 35 anni e candidarsi alla manifestazione di interesse attraverso il sito in sovraimpressione. I primi 15 gestori selezionati saranno poi formati attraverso lezioni in aula e corsi pratici sulle attività di gestione e promozione turistica dell'attività. Un traguardo ed un progetto vinto dai ragazzi, risponde a un bando, valorizzazione per il sociale dove tantissime organizzazioni giovanili napoletane non solo si sono candidate alla presidenza del Consiglio dei Ministri e oggi iniziamo a presentare uno dei progetti forse dal cuore più sensibile e generoso, qualcosa del quale siamo orgogliosi che mettono la disabilità al centro di politiche non di assistenza ma di sviluppo.